Forca troia! Assurdo! Bruciato! Come vuoi tu? Io sono sempre qua. Come vuoi tu? Come vuoi tu? Come vuoi tu? Come vuoi tu? Vediamo se possiamo personalizzarla, ma è tutto bloccato ancora. Vediamo se almeno possiamo personalizzare le prestazioni. 13.000 abbiamo solo. Va bene, per ora va bene così, già che l'abbiamo migliorato un altro po'. forcino a La propria Èvole Faccio La propria La propria Vodnia E Cosa Mi Mi Amp Mi 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 annoiavo e ho messo insieme una corsa L'ho provata Sembra ottima Vedi che tempi riesci a fare Però ricorda Vincere è bene Ma la reputazione è meglio Usa sempre l'istinto Ok? Ok 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 polverizziamo questa maledetta Ok Io sono pronto Con questa macchina soprattutto Spacchiamo tutto Ho sbagliato già strada Vabbè Sì provate a prendermi Manco mi vedete Vabbè 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 Cazzo 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 Ho pochissimo tempo Sì Ce l'ho fatta per pochissimi secondi Sì Ehi Ho visto che state correndo forte Impressionante Se riuscite ad avvicinarvi ai miei tempi Forse possiamo uscire a guidare insieme Ciao Ciao Ti avvicinarò molto Molto presto ai tuoi tempi Non ti preoccupare Sono Magnus Ho visto che state correndo forte Impressionante Se riuscite ad avvicinarvi ai miei tempi Forse possiamo uscire a guidare insieme Rock and roll Ciao Wow amico Come ha avuto il tuo contatto? Non guardare Sai cosa vuol dire fratello? Che te lo meriti? No Un'altra volta Ve lo meritate entrambi No Rob Il merito è tutto suo Il modo in cui il collega qui ha distrutto quei vermi Ovvio che Magnus l'ha chiamato per primo Il premio in vista Di una sola parola E siamo in ballo Andiamo Andiamo dai Ok Tieni una velocità sostenuta L'angolazione giusta E non mollarmi Via Questa volta ti batterò eh Mi dicono della regia E porca troia però Manu C***a Ehi amico, sono Max. Andiamoci a raccordare. Semplice e veloce. Mi trovi fuori. Fammi sapere. Saluto. Cazzo, cazzo. Porca troia. Cazzo. Cazzo, cazzo. Ho vinto, ho vinto Ho vinto Eh Manu, chi è che ha vinto ora? Bene, è l'ora della degna conclusione Guarda avanti, concentrati su dove devi andare e resterai in carreggiata Ciao Manu Guarda avanti Grazie.